e caccia all'uomo fuggito a piedi dopo un incidente mortale sull'autostrada dei fiori la polizia stradale sta cercando il conducente di una bmw x5 che si è scontrata con un camion nell'impatto ha perso la vita un uomo moldavo di 56 anni seduto sul sedile posteriore della vettura ferita in maniera grave anche una donna che si trovava invece a fianco del conducente ferito il camionista di 32 anni condotto in ospedale in codice giallo dalle prime informazioni l'incidente sarebbe stato causato dal conducente che si è allontanato il sinistro nella giornata di domenica 16 ottobre poco prima delle 4 all'interno della galleria san bartolomeo al chilometro 137 dell'autostrada dei fiori tre caselli di sanremo e taggia imperia in quel tratto di carreggiata per via dei cantieri di manutenzione le vetture devono effettuare un cambio di corsia con i veicoli che corrono in due sensi di marcia